Perchè stai già qua la mattina? There are certain people, you just keep coming back to She is right in front of you Performance in a rocking park I think it will be a great performance by feeling Let's go, let's go Tirato su di peso I batteriologhi sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via, come sempre Andiamo là Da parte ai mari Una configurazione quasi allegorica della città di Nuremberg I due deficienti Mezz'ora è più difficile di un'ora e mezza col tuo pubblico Perchè devi cercare di lasciargli qualcosa alla gente Siamo! Vi aspetta un parco con centomila persone dentro Già! Piatta un piccolo Adesso comincio a vedere un po' di gente e dici Vabbè Ma giusto un filo di gente Per silenzio tombale adesso, mi piace, wow. Che barco! Io faccio colazione a catering, cioè sembra, cioè, cioè, il billionaire è catering. Ehi, ehi, test, one, two, three, test, set. La gola è setta. Ragazzi, io non sto agitando. Via, sintesi, fili, se ti spara e togli l'aiuto. Fatti ria, cioè, per i... Cinque secondi, il silenzio, il silenzio, il silenzio. Premi due, per cazzo, ricordi? Per me spiace. Bella. Spacchiamo. Oh, mi raccomando, ma proprio... Un minuto. ! Per me spiace. Un minuto. Un minuto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti